Da Faenza si sposa 2014 sono qui con il signor Luca e la signora Jessica. Salve ragazzi, grazie per essere qua con noi e essere qui a Faenza si sposa. Allora, presentiamo al pubblico che ci segue da casa. In cosa consiste la vostra attività e cosa rappresentate qui in fiera quest'oggi? Noi siamo un'agenzia viaggi, abbiamo la sede in Via L'Alberti 94 a Ravenna. E te Jessica invece? Io sono titolare dello studio fotografico di Mediafoto dove abbiamo la sede principale a Ravenna ma abbiamo anche diversi atelier in tutta Italia e se vedrete sul nostro sito lavoriamo anche all'estero quindi abbiamo uno studio abbastanza rinomato nel settore diciamo. Spieghiamo perché siamo tutti e tre qui insieme su questo divanetto oggi. So che avete un progetto nuovo per le vostre attività, ecco chiariamo questo a chi ci segue da casa. Ok, praticamente ci sarà una novità, una Ravenna perché presso il nostro studio verranno i ragazzi della Tonga Viaggi quindi creeremo uno spazio totalmente nuovo dove cercheremo proprio di unire la fotografia con il viaggio perché è un connubio molto importante e poi anche legato al matrimonio perché i ragazzi si sposano e fanno il servizio fotografico. Quindi ci sarà un nuovo spazio dove ci sarà la fotografia, il viaggio, poi all'interno ci sarà anche una piccola libreria dedicata ai viaggi ovviamente e alla fotografia con anche un angolo bar, insomma tutto un po' in divenire. L'inaugurazione sarà prevista intorno alla primavera, fine marzo, primi di aprile, adesso ancora non si sa ma comunque se ne parlerà sicuramente e la sede sarà appunto quella ufficiale attuale del mio studio che è in via Cesarea 171-173 a Ravenna. Un'idea direi tutta nuova e innovativa, come nasce e cosa offre ai futuri sposi? Dunque praticamente noi abbiamo, è da anni che collaboriamo assieme nel senso che trovo che sia molto importante trovare dei collaboratori fidati e che appunto lavorino assieme e nell'ambito del matrimonio noi abbiamo stretto questa diciamo partnership, questo matrimonio chiamiamolo ci sono anche altri fornitori che sono poi presenti qui con noi in fiera con i quali collaboriamo da tempo e vogliamo cercare di dare ai futuri sposi, alle future coppie di sposi un vantaggio, dei vantaggi, delle particolari aggivolazioni offrendo ovviamente massima qualità perché come in tutti i lavori lavorare assieme da anni chiaramente vuol dire qualità e fiducia quindi insomma questa è un po' la nostra idea. Mi chiedevo una cosa, viaggi di nozze, quest'oggi molte coppie hanno già la famiglia quindi bimbi e parole a carico partono magari anche tutti insieme? Sì assolutamente, anzi ultimamente molto più rispetto a qualche tempo fa dove c'erano solo gli sposi dato che comunque molte coppie già convivono e quindi hanno già dei bambini e partono anche a mette chiaramente un pochino più vicine con i bimbi. Quindi diciamo che è scelta anche come... Sì, è una vacanza tradizionale diciamo come viaggi di nozze. Anche i nostri servizi in effetti adesso sono sempre servizi di famiglia diventano, non più la semplice coppia perché la maggior parte delle coppie hanno già dei figli e quindi i protagonisti diventano anche loro poi il giorno del matrimonio quindi è proprio una cosa bella insomma. Grazie ragazzi, siete stati chiari, vi faccio un in bocca al lupo per la vostra nuova attività ricordiamo allora dove vi possono trovare. Ci troveranno da marzo quindi da quando ci sposeremo a Tonga e di Media in via Cesarea 171-173 a Ravenna. E da Faenza si sposa 2014 con Luca e Jessica è tutto, ciao!